Voi vi promettete che preparate un documento prima che tutti i ragazzi? Assolutamente, anche perché siamo obbligati a utilizzare questo documento nel 2025. Appunto, essendo un progetto Erasmus, dobbiamo attestare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni. Ah, signora, a casa dà fastidio quando si fa? Assolutamente, mai, mai. No, più se ti insegniamo a dire che non ci sono. Ah, una volta, la bambina. Da bambina, auguri a tutti i ragazzi. Grazie.